bentornati su gens italia scusate un breve ritardo ma oggi youtube aveva deciso di non funzionare una puntata di oggi sarà una puntata incentrata sugli f16 l'arma i velivoli che in teoria dovrebbero in qualche modo secondo una certa retorica andare a cambiare la guerra in ucraina beh vedremo se effettivamente così inoltre parleremo anche di bombe plananti del riarmo della polonia e di molti altri argomenti prima di cominciare di presentarvi però i nostri ospiti andiamo con la sigla eccoci qua dunque benvenuti benvenuta alla chat diamo subito il benvenuto a leonardo leantara think tank di parabellum e anche articolista per quanto riguarda rid arturo giusti collaboratore del canale scrittore mondo militare del canale youtube mondo militare e infine daily battlefield del canale youtube daily battlefield buonasera andremo a parlare e ovviamente diamo anche il benvenuto anzi il bentornato ad alex conica di storia corazza dunque oggi abbiamo vari argomenti chiaramente parleremo anche degli f16 in ucraina come avrete intuito dal titolo parleremo poi dei nuovi test missilistici della corea del nord poi ci sposteremo e andremo in polonia per capire cosa sta succedendo il riarmo della polonia che cosa a che cosa prelude e in ultimo torneremo di nuovo sempre rimarremo in europa ma torneremo sulla guerra in ucraina per parlare delle bombe fab delle bombe plananti e vedremo che cosa sono e quale pericolo costituiscono allora direi di partire subito però con il tema centrale con gli f16 in ucraina daily io ti cedo subito la parola e vado a agevolarti agevolati scusate il bello della diretta qualche filmato per capire di quale velivolo stiamo cominciando andare a parlare prego beh allora prima di tutto vorrei parlare di quanti f16 potrebbero essere inviati in quanto comunque se si vanno a cercare delle fonti ci vengono dati tanti numeri tanti numeri molto diversi e le fonti principali indicano che l'olanda potrebbe fornire circa tra i 14 e 24 f16 mentre a danimarca potrebbe fornire tra i 10 e i 19 f16 così creano una flotta totale per l'ucraina tra i 24 e i 43 velivoli alcuni rumor parlano anche di un interessamento della norvegia del belgio che stanno effettivamente pensando di inviare qualcosa però non sono solamente voci non c'è alcuna conferma ufficiale per quel che riguarda il quando saranno consegnati perché si sente oramai da mesi mesi e mesi che stanno arrivando verranno consegnati quando come chi perché anche qui è difficile da dire esattamente alcune fonti indicano comunque che i primi f16 saranno consegnati a giugno di quest'anno o se non a giugno comunque durante l'estate questo non vuol dire che tutti questi f16 andranno direttamente in ucraina in quanto comunque una buona parte almeno inizialmente rimarrà in romania perché verranno utilizzati per effettuare addestramento avanzato dei piloti parlano di questo quanti piloti sono effettivamente disponibili al momento per gli f16 in ucraina beh effettivamente diciamo sono pochi perché purtroppo l'f16 è un velivolo molto tecnologico e ovviamente serve un determinato tipo di addestramento per poterlo utilizzare che non 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 permette diciamo di passare direttamente da aerei sovietici all'f16 quindi attualmente non c'è nessun pilota per questi f16 ad oggi i primi sei piloti addestrati negli stati uniti dovrebbero essere pronti dalla primavera di quest'anno quindi a brevissimo mentre un pool di piloti un po più grande ha appena finito il training di base nel regno unito con la raf a marzo e sono stati adesso mandati in francia per il training avanzato con l'armée de l'air francese e poi dopo saranno inviati in romania per il training direttamente sugli f16 alcune fonti indicano che però questo pool di piloti non sarà pronto prima di fine duemila e ventiquattro inizio duemila e venticinque quindi non sarà una cosa a brevissimo tempo quindi comunque stiamo parlando di pochi velivoli pochi piloti e comunque anche di una data parliamo del duemila venticinque una data che potrebbe anche non vedere l'utilizzo di questi velivoli se ben vado a interpretare anche alcuni segnali ricordiamoci anche che il duemila venticinque sarà un anno importante per quanto riguarda la parte che vedremo oltre oceano ci saranno dei cambiamenti si è parlato anche molto in in queste giornate di alcune proposte di trump che poi sono state anche smentite per quanto riguarda una pace in ucraina che lui sarebbe in grado appunto quanto si dice di riuscire a stabilire in poco tempo intanto ringrazio quarta dimensione per la donazione quindi sì diciamo che il il titolo di oggi è chiaramente provocatorio stanno arrivando stanno arrivando perché è da mesi che si parla di questa cosa come anche ricordiamoci dei leopard i leopard che venivano spacciati come praticamente l'arma definitiva e purtroppo invece abbiamo visto che non sono semplicemente dei mezzi a fare la differenza tra l'altro una cosa che sta emergendo anche in queste settimane proprio l'allarme che viene lanciato dagli stessi ucraini per quanto riguarda la tenuta proprio del fronte nel caso di una spallata da parte dei russi vediamo un attimino però ti vado subito a chiedere anche per quanto riguarda questi velivoli l'f16 quale ruolo ha beh l'f16 è un per quanto sia un aereo comunque concepito molti anni fa ha subito molti aggiornamenti e comunque rimane di conseguenza un aereo un velivolo multi ruolo molto capace capace comunque di operare sia come caccia che come intercettore che come aereo multi ruolo per l'attacco al suolo con anche munizioni beyond visual range che quindi permetterebbe anche comunque la sopravvivenza del velivolo operando comunque a distanze molto lunghe ovviamente come dicevi te per quanto siano aerei molto tecnologici e molto avanzati non bisogna farsi fregare da quello che dicono solitamente media cioè adesso come dicevi te prima era l'arma segreta erano i leopard adesso sono gli f16 purtroppo come dici te non è un solo velivolo con un solo mezzo che risolve una guerra intera tutto aiuta nulla è l'arma segreta che risolve i problemi chiedo una cosa visto che abbiamo anche leonardo che è un grande esperto per quanto riguarda il discorso dei velivoli leo secondo te questo ero che da alcuni viene definito anche un aereo economico quale apporto potrebbe andare a dare scusa il gioco di parole agli ucraini ma intanto sono velivoli allora tutto giusto bisogna vedere però molti dettagli il diavolo stanno i dettagli cioè gli si danno gli f16 in che allestimento così come sono o ammodernati perché gli f16 che abbiamo qua in europa appartengono ai bloc 15 se non ricordo male aggiornati mlu e diciamo che sono dei velivoli 30 anni come come allestimento le lidiamo così o gli aggiorniamo per dire il radar lo mettiamo più performante in maniera da usare gli am ram am 120 ultime versioni non dico l'am 120 d che è l'ultimo nato ma c 6 5 4 boh cioè ci sono tanti punti di domanda e è difficile dare una risposta se non conosciamo le caratteristiche dei velivoli che effettivamente verranno dati all'ucraina io penso che potrebbero essere utilizzati fondamentalmente come dca il defensive counter air non più di questo perché dall'altra parte c'è un'aviazione russa che ha molti velivoli con un braccio molto più lungo con radar migliore che moderni quindi assolutamente le f16 non è risolutivo della guerra in ucraina è un caccio di quarta generazione che in un teatro di combattimento ad alta intensità come quello ucraino avrà le stesse difficoltà di un qualunque altro caccia di quarta generazione cioè se dovrà vedere con difese aeree molto strutturate e stratificate e includono i famosi s 400 300 e poi scendere se lo dovrà vedere con caccia molto performanti come su 35 le su 35 i relativi missili incluso l'r 37 che ha lunghissimo raggio lanciato dal mig 31 ma anche l'r 77 in ultima versione rischiamo queste f16 rischiano di finire a fare di essere delle prede anche loro perché non riescono ad essere abbastanza avanzati per poter fare qualcosa di offensivo a meno che non si concentri tutti e tutti asterisco quanti tutti su una porzione molto stretta del fronte per ottenere una superiorità locale ma per fare cosa perché vedete ad ogni risposta che io cerco di dare vengono fuori altre domande qual è la strategia ucraina fare un'altra offensiva con quali forze che hanno un problema di manpower infinito sono arrivati forse un po' tardi queste f16 ammettiamo che arrivino a giugno come sembra essere o giugno non sarà e la finestra di opportunità in cui avrebbero potuto essere utili ormai si è chiusa perché l'anno scorso c'era l'offensiva ucraina da portare avanti e allora lì forse avrebbero potuto dare una mano ma oggi come oggi cosa si fa con gli f16 se non il defensive counter e quindi li tieni dentro i confini ucraini per dare una mano alla difesa aerea e ci sono tante domande c'è il problema dei piloti che degli giustamente ha riportato ma sei piloti 10 12 se abbiamo 40 velivoli normalmente tu hai 40 velivoli e 60 c'è sempre un rapporto di 1 5 sarebbe auspicabile perché sa ci si ammala signore normalmente siamo sempre più piloti che aerei e poi normalmente ci vogliono anni per ammestrare un pilota facciamo pure finta che a questi piloti ucraini abbiamo tolto una bella parte del sillabo niente rifornimento in volo niente missioni antinave magari non abbiamo neanche fatto attacco al suolo però un anno un anno e mezzo di ammestramento come me lo devi dare altrimenti facciamo la carne da cannone nei cieli ci sono tante domande e le masi le abbiamo preparate l'f16 è un verivolo un po fighetto perché ha una presa d'aria che si ciuccia tutto quello che trova sulla pista tutto il fod che trova sulla pista come facciamo il gripe non sarebbe l'aereo tecnicamente più indicato per lo scenario ucraino in mano ucraina ma c'è un problema si era ventilato si era detto ma sono pochi i gripe disponibili e comunque sono le vecchie versioni dei gripe non è il gripe e sarebbero i gripe c i gripe precedenti allora se tu mi dici ti do un gripe gli metto sui meteor gli areari a meteo che tirano 200 chilometri e tra l'altro il gripe è una bella suite di contromisure elettroniche bene mi sta piacendo ma quanti sono veramente disponibili perché l'f16 è stato nominato perché ce ne sono tanti potenzialmente disponibili in europa poi io non vedo perché limitare la provvidenza ci sarebbero anche gli f18c ex australiani ex canadesi troppo arriveranno quelli spagnoli che sono in dismissione quelli finlandesi ma adesso se ritengono perché ci siamo limitati alle f16 perché ce n'è abbondanza di velivoli abbondanza di ricambi di esperienza in europa gripe no non ce ne sono così tanti all'inizio se vi ricordate ma parliamo del poco dopo la guerra 2022 furono richiesti un centinaio di f16 poi la cosa è rimasta nel no fino al inverno 2023 poi si è sbloccata verso la primavera estate 23 è arrivato è arrivata brucia verde ma si è detto da subito non sono pronti domani mattina perché bisogna formare i piloti ma bisogna formare anche l'occupaggio di terra signori chi deve semplici ha bisogno vado a memoria di 11 persone allora concepiti diversamente un concetto strategico operativo diverso potrei stare qua per delle ore raccontare del gripe ma cosa potrebbe fare come hai chiesto per l'ucraina potrebbe fare per aiutare secondo me la difesa aerea e poi vediamo anche come lo dotano gli armamenti perché un velivolo ha senso in base all'armamento che ci metti inizialmente le f16 quando è nato a fine anni 70 doveva combattere con i sei guai fine doveva essere un dogfighter puro a corto raggio armati in maniera leggera già negli anni 80 hanno cominciato a metterci delle cose in più ripeto la domanda questi f16 vengono come equipaggiati come configurati come a quel punto possiamo provare a pensare i piloti sono stati addestrati solo per l'aria anche per l'aria suolo combattere support e poi però dopo devi anche addestrare i personaggi ai tac a terra due anni di corso in italia non lo so è difficile darti una risposta io per esempio io almeno una risposta definitiva realistica faccio fatica a dare ho più domande che risposte anch'io anch'io per quanto riguarda gli f16 ho avuto dei grossi dubbi soprattutto per il momento anche perché se stiamo parlando del dopo la primavera ormai dopo la primavera chissà a che livello saranno i russi daily io ti volevo chiedere perché tu mi avevi fatto anche un focus su questo quali f16 dovrebbero essere inviati se hai notizie beh allora sia la danimarca che l'olanda hanno utilizzato diverse versioni delle f16 e purtroppo con 100 per cento sicurezza noi non al momento non si sa che versioni se potrebbe essere mandata la più probabile perché anche quella con le quantità più grandi perché sono stati aggiornati per la maggior parte sono di f16 a block 15 ml u e che significa midlife update quindi a moderamento in mezza vita e si trovano online spesso anche sotto la nomenclatura f16 a m block 15 o semplicemente come f16 ml u e come come veniva detto non sono sono sempre voli voli moderni ma come aggiornamento comunque è concepito comunque nei primi del 2000 quindi comunque si parla di un aggiornamento di 15 20 anni fa e infatti hanno ricevono tutti degli allestimenti nuovi perché per esempio riceve un nuovo modular mission computer che permette una migliore interfaccia uomo macchina e così da aumentare anche le capacità del velivolo il problema è che come veniva detto prima quanto vengono addestrati i piloti anche per poter utilizzare queste nuove tecnologie quindi modular mission computer oppure il nuovo fire control radar an apg 66 v2 che è nuovo per quando è stato montato per l'aggiornamento adesso non è più così all'ultimo grido per quanto comunque riesca a tracciare fino a 10 target simultaneamente in modalità track track while scanning e ad utilizzare tutte e sei gli am 120 amram simultaneamente comunque è un radar che anche della famiglia apg 66 non è più l'ultimo perché comunque è stato creato poi il v3 e il v4 quindi nel senso anche il radar ovviamente rispetto alle prime versioni dell'f16 è migliorato molto sia per quello che riguarda le modalità doppler che terrain mapping che art terrain e anche il diciamo il range di detection è aumentato di circa il 25 per cento rispetto alle prime versioni dell'apg 66 poi ovviamente anche altre altri sensori sono stati modificati sono stati aggiornati per esempio molto importante se in un in un esercito delle forze armate occidentali è l'improved data modem che praticamente permette lo scambio di informazioni più velocemente e di volume di informazioni più ampie tra gli alleati tra i velivoli e i sensori alleati che quindi permette a velivoli più moderni e più capaci di fornire informazioni nell'f16 e l'f16 a sua volta di fornirlo in caso ad aerei meno meno capaci il problema è qui sorge ovvio nel senso questi sistemi sono nati comunque per comunicare con altri sistemi occidentali quanti di questi sistemi occidentali sono attualmente presenti in ucraina quanti sono attualmente utilizzabili quindi anche questo queste capacità che aumenterebbero di molto le capacità di un f16 vengono un po tra virgolette sprecate perché in un contesto come quello dell'ucraina rimane un po più difficile riuscirne ad estrappolare il massimo ad esempio io leggevo qualche tempo fa non vorrei sbagliare che anche la turchia che dovrebbe avere gli f16 la turchia è molto avanti punta molto sul discorso degli uav magari correggimi tu leo se sbaglio f16 oppure non vorrei confondermi con l'f18 ma c'è il discorso di andare a integrare il il caccia con all'inter con scusate a supporto anche dei dei sistemi funzionali che vadano a fornire un un appoggio come ad esempio i droni quindi avere il singolo caccia con a disposizione vari droni che compiono vari ruoli ovviamente questo in un'ottica futura però quello che mi sembra di capire da quello che mi state raccontando è che in realtà gli stiamo mandando questo verivolo che non fa parte sicuramente dei gioielli della corona e che ci lascia più dubbi che altro cioè è quasi un contentino della serie vi stiamo mandando un minimo di supporto aereo che tra l'altro dai numeri stiamo parlando di sei velivoli lascerà il tempo che trova e qual è la novità cosa le abbiamo mai mandato noi di rompente a livello di mezzi due patriote due batterie di patriote 30 abrams una due batterie di sapti i leopards sudando sangue per mesi perché noi abbiamo diciamo sia verità l'europa sono stati magazzini della roba vecchia anche gli et e si è messo gli attacchi famosi tanto quelli con gittata lunga sono le persone più vecchie poi alex è più terricolo di me più terrestre di me lo so meglio di me ma non è che gli abbiamo mandato l'ultimo grido e vorrei anche vedere che non fosse così perché io francamente visto in poco che c'è di disponibile nei magazzini avrei troppo strano mandare gli euro fight tra l'altro ci sono delle eccezioni perché la cosa che fa parecchio strano è che il 90 per cento del materiale mandato chiaramente sono mezzi vecchi e anche quei mezzi che parrebbero nuovi come ad esempio leopard 2 a 6 sappiamo che alcuni di questi mezzi erano in condizioni abbastanza pietose gli spagnoli hanno apertamente detto che la loro flotta di leopard era in condizioni abbastanza drammatiche quindi anche lì laddove abbiamo mandato tecnologia nuova si è cercato di mandare comunque la roba più vecchia possibile che comunque avrebbe creato il minor danno possibile a anche le unità attive dei vari eserciti europei gli unici che si sono spesi tanto sono i polacchi ma si gli altri hanno semplicemente preso ciò che avanzava e hanno mandato se abbiamo fatto un bel una bella pulizia dei magazzini da questo punto di vista tra l'altro ricordiamoci che molti dei dei miliardi che vengono che vengono mandati in ucraina non sono tanto per gli armamenti quanto proprio per gestire lo stato il paese per non far collassare banalmente l'ucraina quindi quando si parla ad esempio in italia del fatto che mandiamo soldi all'ucraina noi non stiamo mandando tanto una questione di soldi per gli armamenti ma è più una questione per gestire il paese la sanità le pensioni tutto quanto per sostenere semplicemente banalmente un paese che da solo non ci sta più in piedi con tutta la al di là di come la si pensi qui non è una questione semplicemente citando un direttore fattuale questa cosa quindi molto semplicemente per quanto riguarda il fornitore di f16 è venuta fuori una novità che fino all'anno scorso è esclusa cioè la grecia la grecia si è svegliata e ha capito che avere una linea di combattimento con f4 mirage 2035 mirage raffa scusate f16 mi sembra tre bloc diversi non è proprio geniale e quindi se qualcuno ha buttato la in grecia che forse si potrebbe dare anche un po di degli f16 greci che dovevano essere gradati al blocco credo 70 quindi c'è anche un po questa possibilità nel frattempo è diventato praticamente ufficiale che una ventina mi sembra 24 f16 danesi saranno venduti alla argentina che era nell'aria dall'anno scorso sembra che vada a finalizzarsi anche questa cosa quindi diciamo comunque secondo me il problema più grande tornando indietro che come diceva e come diceva giustamente leonardo è che sì la la grecia ha ventilato la possibilità di prendere i propri f16 bloc 50 e aprire upgradarli al modello alla versione bloc 70 ma il problema più grande che secondo me continua a essere mancato dai principali media è che giustamente come diceva leonardo prima manca tutta una serie di infrastrutture nel senso partendo dai tecnici se noi parliamo solamente di prendendo i dati di alcuni ex tecnici dell'aeronautica americana per un semplice turn around dell'aereo quindi semplicemente a terra viene fatta un'ispezione molto veloce visiva vengono rimontate vengono rifornite le munizioni che sono state utilizzate vengono rifornite di carburante e vengono fatti di nuovo decollare servono tra i tre e i sei tecnici se invece si vuole fare un'ispezione un pochettino più accurata manutenzione un po più invasive o comunque compiti specifici anche per quel che riguarda lo squadrone servono tra i 17 e i 25 specialisti per ogni singolo aereo se poi togliamo gli specialisti del comando eccetera lo squadrone che allora possono essere rivisi su più aerei certamente però comunque tra i 17 e i 25 specialisti questi 17 o 25 specialisti da dove vengono tirati fuori perché comunque serve un addestramento anche per questi specialisti bravo e soprattutto la cosa che a me lascia più di stucco è che giustamente sempre come diceva leonardo purtroppo l'aereo si è un aereo moderno però fa tanto finché ha delle munizioni o comunque fa tanto in base anche agli armamenti che monta perché comunque prendendo l'aeronautica olandese non è che hanno degli stockpile enormi di armi e molto probabilmente verranno comunque forniti delle fornite delle munizioni per questi aerei che sono di nuovo probabilmente tra le più vecchie perché comunque gli f16 olandesi hanno volato per esempio con i sidewinder della versione am 9n che è una versione modificata del j quindi si parla di missili anni 80 solamente a diciamo log posteriore oppure anche con potrebbero essere anche m9 l e m però gli m9 l e m c'è uno stockpile bassissimo e l'olanda ha comprato veramente pochi m9 x per sostituire questi ultimi due quindi con cosa vengono mandati senza poi senza poi togliere che sono stati acquistati veramente pochi am ram ovviamente soprattutto perché delle versioni vecchie rimane quello che rimane e se non ricordo male hanno comprato la bellezza di 40 maverick agm 65g scusatemi se vi interrompo perché dopo voglio proprio dedicare un momento agli armamenti anche per riuscire a lavorare per compartimenti stagni e capire meglio la situazione però volevo arrivarci partendo da questa domanda scusami se ti ho interrotto perché antonino divito ci scrive buonasera a tutti l'ingresso degli f16 sullo scenario di guerra non c'è il forte rischio di un ulteriore escalation visto che i russi hanno detto che li abbatteranno anche in territorio nato questa è una notizia che è stata data qualche settimana fa ed effettivamente l'aveva detta putin ora in realtà putin l'aveva detta secondo me con il suo modo di fare nel senso del detto non detto e anche chiaramente in modo tale anche da andare a creare quella sorta di tensione di quel livello di tensione io mi aspetto che chiaramente la nato in generale non sia così folle da far partire i caccia banalmente dalla dalla polonia tuttavia e qui arriviamo al discorso del dell'armamento proviamo andare un attimino per gradi perché ad esempio la germania qualche settimana fa c'è stato il caso dei taurus che la germania non vuole inviare per il semplice fatto che i taurus sono un'arma che potrebbe banalmente essere utilizzata per andare a colpire delle infrastrutture c'è l'ipotesi di andare a dimezzare la capacità operativa del missile quindi portarlo da 500 250 chilometri e dotare l'ucraina di questa arma ecco l'altro giorno c'era la richiesta da parte di uno delle figure chiave dell'ucraina che diceva dateci quei maledetti proprio testuale dateci quei maledetti patriot abbiamo bisogno dei patriot ci stanno massacrando ok quindi anche qui si entra su tutto il discorso anche che forse più di che mandare armamento come ad esempio i velivoli si potrebbe pensare anche proprio ad armamento difensivo anche perché solamente un folle penserebbe di andare ad attuare una nuova offensiva perché sarebbe veramente la morte dell'ucraina da quel punto di vista se parliamo strategicamente ora veniamo un attimino al focus sugli armamenti cosa ci potete dire dei lì intanto parto da te cosa ci puoi dire per l'armamento offensivo di questo di questo velivolo dell'f16 beh come dicevo prima questa versione dell'f16 può portare una variegata un variegato numero di munizioni ovviamente dipende sempre da non tanto quello che può portare ma tanto da quello che si vuole fornire semplicemente perché se io prendo il caso come dicevo del dell'olanda l'olanda da sola senza prendere troppo in conto ragionamenti politici potrebbe mandare gli m9n lm o x anche se la vedo veramente difficile che vengano mandati degli m9x perché sono veramente troppo avanzati ce ne sono veramente troppi pochi ritiene per gli f35 esatto sono stati veramente pochissimi ordinati eccetera eccetera per la difesa diciamo per teoricamente il combattimento beyond visual range ci sono gli m120 amram però non le versioni vecchie quindi diciamo quelle che sono i stockpile perché il c4 e il c5 non sono abilitati per questa versione del velivolo quindi sarebbe dal c3 indietro quindi sempre versioni abbastanza vecchie poi in stockpile l'olanda c'è anche le bombe le classiche bombe stupide mark 82 84 come dicevo prima pochissimi pezzi di maverick pochissimi pezzi pure di bombe guidate a guida laser jbu 10 12 24 veramente il minimo indispensabile e di nuovo insieme all'ordine di m9x sono state anche acquistate le jdam però anche lì non sono sicuro che siano abilitate per questo aereo non sono sicuro sono sicuro al 90 per cento che non verranno inviate perché sono state comprate poche sono armi molto moderne e servono comunque per l'aeronautica olandese dopodiché alcune fonti perché non ne ho trovate di ufficiali parlano anche che tale versione può avere potrebbe utilizzare dei missili arpun o comunque degli agm 88 hamram quindi missili antinave per il primo e missili antiradiazione per il secondo il grosso problema che nessuno degli operatori europei di questa versione del velivolo ha comprato né arpun né arm per questo velivolo quindi se probabilmente qualcuna di queste munizioni fosse fornita al l'ucraina non arriverebbe sicuramente dagli alleati europei anche perché di nuovo la maggior parte dei stati europei hanno una severa mancanza di munizioni guidate o comunque di munizioni moderne poi leggevo anche del problema che ad esempio per quanto riguarda legge idam ci sono determinati sistemi che sono in grado di andare a disinibire il gps di quello tipo di bomba intelligenti e quindi di conseguenza se abbiamo a che fare con un avversario e parliamo di ad esempio una guerra asimmetrica è un paio di maniche invece nel caso in cui ci sia la capacità da parte della controparte di andare a disinibire questo questo mezzo d'offesa e diventa diverso il discorso leo ti vedo scalpitante vai no 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 guardavo queste immagini perché questo è l'f16 polacco di una versione piuttosto moderna ecco non è così l'f16 che riceveranno a polonia magari no no ma non è scalpitante stavo ragionando sul fatto che probabilmente questi f16 in realtà serviranno più che altro a forgiare l'aviazione ucraina di domani per quando si dividerà in due l'ucraina a guerra finita perché avere un aeronautica adesso in corsa e non sai neanche dove basarli sti aerei perché prima qualcuno chiedeva se c'è pericolo di escalation beh se i velivoli decollano da territorio nato e operano dentro l'ucraina la russia ha il sacrosanto diritto di colpire le basi della nato cioè un anno fa augusto millennium seven un anno fa forse no come ne aveva parlato sul suo canale aveva fatto uno sciolto e diceva bene ma se noi facciamo dove mettiamo sti aerei perché se li mettiamo in ucraina vanno a fare da bersaglio prioritario anche per una ragione di propaganda se li mettiamo in territorio nato decollano da territorio nato fanno qualcosa in ucraina diventano bersagli legittime bersagli legittimi gli aerei e anche le basi da dove sono partiti e a quel punto a non gli puoi neanche dire che hanno stronzo perché ha ragione lui quindi sì che c'è un pericolo escalation se se questi velivoli partono dal territorio ma romania romania polonia qualche è ragione punti ad attaccare le basi nato certo che sono pericolo escalation io non credo che si voglia fare una cosa del genere a livello della nato quindi devi basare gli aerei in ucraina le devi proteggere molto bene quelle basi perché se io fossi al comando delle truppe russe farei di tutto per colpire quegli aerei così come hanno fatto di tutto per colpire i patriot perché o comunque i mezzi occidentali perché è una medaglia che vale doppio dal punto di vista della propaganda e l'hanno sfruttata bene queste grandi domande che dobbiamo affrontare quando parliamo di f16 come li proteggiamo una volta in territorio ucraino vero ma tra l'altro dopo ti domando una cosa che sono curioso se probabilmente saprete rispondermi o tu o daily rispondo solo vecemente a questa domanda con gli occhi di oggi era proprio così impensabile la no fly zone all'inizio della guerra una no fly zone è semplicemente dichiarare guerra molto banalmente quindi si non si può non si può su un campo di battaglia non si può pensare di imbandire una no fly zone senza pensare di finire in guerra semplicemente perché la no fly zone ha potere fin tanto che chi la vuole mettere in piedi ha il potere e il desiderio di proteggerla nel senso se in questa no fly zone entra un velivolo russo possono succedere due cose uno non si fa niente due lo si abbatte se uno non si fa niente la no fly zone diventa inutile perché se non si fa niente la russia al giorno dopo diceva beh al prossimo andare uno ne mando due ne mando cinque ne mando otto tanto non succede niente invece lo si abbatte è un atto di guerra un atto stile è come se un soldato nato sparasse un soldato russo stessa identica cosa la no fly zone se viene abbattuto il pilota della nato altrettanto nel senso una volta che il pilota nato il pilota americano il pilota italiano il pilota francese viene abbattuto e poi cosa succede nel senso anche questo in base alle politiche europee da nato si può potrebbe scatturire un l'articolo 5 quindi la difesa bla 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 il problema che invece se non succede niente il castello di carte su cui si basa la difesa europea crolla sì ci abbiamo fatto la prima guerra mondiale per questi generi giochetti diplomatici quindi evitiamo invece banalmente si può al posto di pensare al no fly zone si può dare sistemi missilistici di difesa o sistemi di difesa aerea per difendere le città io mi riferisco ad esempio quello che sta succedendo quotidianamente odessa sul gruppo degli addetti ai lavori abbiamo delle persone che abitano a odessa e la situazione drammatica ora qui su questo canale sapete diciamo le cose come stanno quindi non ho nessun problema a dire che l'ucraina sta perdendo la guerra ma non per questo sono filo russo o filo ucraino come dico sempre io sono filo italiano quindi questa è l'unica cosa che posso dirvi però banalmente quando ci sono delle vite di mezzo beh penso che bisogna mettersi un attimino la mano al cuore al portafoglio in questo caso chiudiamo sul discorso è quello che è stato fatto finora perché l'anno scorso in molti si disse mandiamoli dei sistemi di difesa aerea costano meno questo no ci vuole meno tempo ad estrarre gli equipaggi e assolverò un compito immediato cioè negare lo spazio ucraino ai russi ed è andata bene la mia obiezione e le discussi in una live con con il cantatore per esempio da miro che si si giustissimo però attenzione perché è limitante e ti limite alla difesa fai catenaccio non avere il potere aereo che ti proietta forse in profondità che ti protegge le truppe che fa qualcosa che non sia la difesa aerea è limitante vuol dire che tu quella confensiva di terra non avrai nulla del potere aereo e infatti così fu però fu una scelta cioè non puoi avere la moglie piena la botte ubriaca la moglie la botte piena la moglie ubriaca ho dovuto scegliere e io ho paura che in questa fase sia più utile più dell'anno scorso delle delle buone difese aeree l'aviazione si viva l'anno scorso ma obiettivamente non c'era i tempi tecnici non avevi piloti non avevi mezzi non potevi essere pronto per l'offensiva ucraina l'anno scorso adesso io chiudo un attimo il discorso sugli f16 perché siamo già assieme 40 minuti su questo discorso e dobbiamo ancora parlarne molto e vi ringrazio perché veramente in futuro potremmo continuare a parlarne a lungo ma veramente dedicando una live intera solo su questo ti volevo mostrare vi volevo mostrare questo qui che è una 50 perché effettivamente visto che parliamo anche di difesa aerea ricordiamoci che i russi hanno perso alcuni dei loro appunto prima parlavamo dei gioielli della corona e beh questo nonostante non sia un velivolo una un'arma di fine di mondo beh è un velivolo assolutamente fondamentale per intercettare per riuscire a capire ora non so quanti ne sono ancora rimasti ma si parlava molto di questi velivoli perché sono fondamentali per quanto riguarda l'intercettazione e soprattutto avere un quadro generale di tutto quello che è lo spazio aereo e non solo corrigetemi se sbaglio erano pochi ne sono rimasti ancora meno perché sono stati imbattuti alcuni sono andati perduti questi sono gli awaks russi e a differenza della nato che ha una strategia di proiezione di potenza a distanza la russa a mediazione legata all'operazione terrestri con un'ottica lottodifensiva ne hanno sempre avuti pochi così come hanno pochi erano il fornitore si è un problema il fatto che comunque dopo l'abbattimento di questi due perché loro puntavano al a 100 quello di nuova generazione e per fare quello ci vuole un po più di tempo perché più complesso però dopo l'abbattimento della 50 all'improvviso c'è stato il show google il ministero della difesa che hanno detto che ok facciamo di a 100 ma riprendiamo la costruzione anche di a 50 perché facciamo più in fretta e così facciamo due diversi ma li facciamo di più e perché ne abbiamo bisogno giustamente bene io leo so che dovevi lasciarci se non sbaglio quindi io ti ringrazio ovviamente sei sempre il benvenuto qui su gens italia e alla prossima grazie a te grazie a te a presto invece passiamo subito al prossimo argomento ci sposteremo in in polonia ma prima di farlo ci prendiamo 20 secondi proprio di pausa anche per dare il tempo mondo militare di agevolare il pdf allora parliamo di polonia e non siamo nel periodo della seconda guerra mondiale mondo ma sempre di guerra si parla esatto ti cedo la parola allora riarmo polacco prima si parlava di ucraina la polonia è strettamente legata a tutto quello che sta succedendo ultimamente in ucraina e ovviamente tutto il discorso riarmo polacco si lega a doppio filo con quella che è la guerra in ucraina ovviamente il conflitto in ucraina ha creato un diciamo un risveglio in tutti i paesi europei non solo molti paesi si stanno rendendo conto che tralasciare la componente militare forse non è così una buona idea e la polonia è stata quella che diciamo fin da subito si è rimboccata le mani che ha deciso di dare una bella rinnovata tutte le proprie forze armate e questo progetto punta non solo a rinnovare chiaramente le forze armate polacche ma anche andare una bella spinta a quella che è l'industria nazionale questo rinnovo punto deriva da cosa deriva innanzitutto da una obsolescenza di quella che è la componente militare polacca i polacchi da quando finita la guerra fredda da quando sono usciti nel pad dal patto di varsavia hanno visto un lento degrado di quelle che sono le loro forze corazzate e anche un lento degrado di quella che era la loro industria bellica ricordiamoci che la polonia durante la guerra fredda all'interno del patto di varsavia aveva una delle industrie militari più sviluppate all'interno di proprio tutta l'alleanza e un'altra ragione per il quale questo rinnovo si è reso necessario è chiaramente tutta la questione degli aiuti la polonia è stata una delle nazioni che più di tutte si è spesa per aiutare l'ucraina nello sforzo bellico sappiamo ad esempio che ha mandato un numero immenso di veicoli infatti la polonia a differenza di altri paesi che sono impegnati con aiuti economici come tra l'altro dicevamo anche prima questo primo piano così è colta la sprovvista come mi ha fatto perdere il filo la polonia si è impegnata a inviare una marea di veicoli e a differenza di tante altre nazioni che appunto come diceva prima leonardo si è limitato sostanzialmente ad aprire il magazzino vedere a cosa vedere cosa c'era e mandarlo la polonia si è attinto questi mezzi anche dalle unità attive qui ho messo alcuni esempi con alcune cifre ovviamente questa non rappresenta neanche lontanamente la totalità degli aiuti polachi ma comunque da un'idea di quello che ha dato parliamo di 14 mig 29 12 mi 24 v 70 hs crab 60 pt 91 più di 250 t 72 tra m1 m1 r via discorrendo insomma la polonia ha veramente dato di tutto e di più ma la questione ucraina non è l'unica ragione che ha portato a questo riarmo infatti si va anche all'interno di quello che è un discorso strategico legato alla nato e ai tempi di razioni infatti il programma che la polonia ha intrapreso per i prossimi anni è relativo allo sviluppo di un esercito che punti molto su quello che è l'aspetto difensivo e ovviamente può sembrare un'ovvietà in realtà il ragionamento che c'è dietro riguarda quella che è la prontezza della nato sostanzialmente i polacchi il ragionamento polacco ipotizza un eventuale attacco da parte della russia e annessa bielorussia chiaramente in caso di attacco a uno stato nato in questo caso della polonia si tiverebbe l'articolo 5 quindi ci sarebbe un intervento anche degli altri paesi e nonostante ci siano forze dispiegate un po in giro per tutto all'est europa per radunare quelle forze schierarle sul fronte polacco ci vuole tempo ovviamente queste truppe non hanno il dono dell'obiquità e di conseguenza in caso di attacco sarebbero necessarie ore se non addirittura giorni per raggruppare una forza sufficiente a contenere quella che era quella che potrebbe essere una spinta russa di conseguenza l'idea polacca è di avere un esercito che sia quantomeno in grado di reggere l'urto di questa prima ondata russa in modo da dare il tempo a quelle che sono le unità di intervento nato di raggrupparsi organizzarsi e porsi a difesa del territorio polacco quindi sostanzialmente l'idea dietro anche a questo riarmo polacco è proprio quello di fornire una prima linea di difesa permettendo così alla nato di organizzarsi con tutto tutta la calma del mondo in modo molto relativo ovviamente questo piano di riarmo riguarda sostanzialmente due punti innanzitutto ampliamento delle forze armate ampliamento dal punto di vista dell'organico e acquisizione di nuovi sistemi d'arma entrambi questi punti dovranno rispettare quelli che sono tre criteri celerità quindi ovviamente tempi di consegna abbastanza rapidi convenienza economica quindi ovviamente la polonia per quanto sia disposta a mettere mano al portafoglio preferisce comprare sì magari qualcosa di costoso ma non vorrebbe rendersi conto poi successivamente che c'è qualcosa di altrettanto buono ma un prezzo minore quindi ci deve essere anche è una convenienza economica soprattutto sempre legato al discorso al discorso economico vuole un ritorno economico essendo questo un investimento e trattandosi anche come vedremo dopo di parecchi soldi ciò a cui punta la polonia e anche riuscire a sfruttare questo investimento per costruire un apparato industriale che possa anche dare nuova linfa vitale a quella che era un tempo un'industria bellica abbastanza florida cosa che polacchi in realtà hanno cercato di fare nel corso degli anni i polacchi hanno avviato diversi programmi di sviluppo e l'ambito terrestre l'ambito navale anche l'ambito aereo però la maggior parte di questi programmi o è rimasto allo stadio concettuale o non ha superato lo stadio prototipale per quanto riguarda l'ampliamento i polacchi hanno annunciato di voler portare il numero del proprio personale a 200.000 effettivi ovviamente 200.000 di tutte le forze armate quindi tutte le varie branche entro il 2032 attualmente le forze armate polacche contano all'incirca un 100.000 uomini uomo più uomo meno quindi l'idea è proprio quello di ampliare il personale ma ampliare il personale non significa semplicemente arruolare più persone perché per arruolare più persone è necessario anche ampliare quella che è l'infrastruttura atta a mantenere questo personale banalmente le caserme è necessario avere l'equipaggiamento da fornire a uno di questi soldati è necessario avere le riserve per portare a equipaggiare eventualmente i soldati qualora perdessero danneggiassero il proprio equipaggiamento insomma è un lavoro abbastanza ampio e raddoppiare il numero degli effettivi richiederà uno sforzo non indifferente e ovviamente arriviamo anche a quello che è stato l'argomento più discusso negli ultimi anni ovvero accordo con la corea del sud un accordo per ben 13 miliardi che prevede quattro punti la prima la produzione loco di k2 e k9 poi vedremo meglio nel dettaglio la cosa trasferimento tecnologico acquisto di fa 50 e k239 che è una versione sostanzialmente sudcoreana dell'iMars e infine anche creazione di un'industria di un'industria locale tramite anche quella che è la cooperazione per futuri sviluppi e anche qui ci sarebbe molto da dire perché per la polonia si prospetta un futuro in termini industriali abbastanza interessante acquisizione dei k2 l'accordo ovviamente tutto questo risale al 2022 quindi sono già due anni che la cosa procede sostanzialmente l'accordo prevede l'acquisizione di 180 k2 gf gf sta per cap filler e sono carri prodotti in in corea ovviamente questi carri stanno ricevendo la polonia sta ricevendo questi carri molto velocemente ma perché lo sta facendo perché la corea del sud fa una cosa che altri paesi non fanno ovvero è disposta a rinunciare a mezzi dalle proprie commesse per dare priorità alle esportazioni ovviamente questa è una cosa che gli stati uniti ad esempio non farebbero mai nella vita se solo li provassero a proporre una roba del genere sarebbe probabilmente un peggio di una bestemmia però i sudcoreani sono disposti a farlo proprio per diffondere il più possibile quella che è l'industria coreana perché i coreani non solo concedono appunto questi privilegi tra virgolette quindi sono disposti a fare dei sacrifici io per consegnare i mezzi a te ma sono anche disposti a concedere la tecnologia per produrre in loco questi mezzi anche questa è una cosa che non si vede spesso soprattutto in progetti così giovani come quelli sudcoreani 820 carri invece saranno prodotti localmente produzione che dovrebbe cominciare a partire dal 2025 sarà la versione k2 pl ovviamente l'immagine un modellino non abbiamo attualmente ancora un maggio di un k2 pl vero e proprio però possiamo dedurre che il modello che si andrà a sviluppare sarà sostanzialmente simile al k2 ex tra l'altro i coreani hanno anche detto che i prossimi lotti di k2 saranno costruiti proprio basandosi sul versione sulla versione k2 pl ovviamente anche c'è l'acquisto dei k9 k9 che saranno acquistati prima nella versione k9 a1 i primi tra l'altro anche dei k2 sono già stati consegnati e successivamente quando avvia verrà avviata la produzione locale saranno costruiti i successivi k9 pl qui non ho messo le cifre della produzione sudcoreana della produzione polacca perché semplicemente ancora non abbiamo a disposizione questa questa informazione però possiamo immaginare una situazione simile k2 dove la quota costruita in sudcorea sia diciamo minoritaria tra l'altro k9 non è nemmeno una novità in polonia infatti il l'hs k crab citato prima che appunto è stato inviato anche in ucraina è di base su scafo k9 semplicemente al posto della consueta torretta del k9 appunto vi è stata installata una torretta as 90 di produzione inglese anche qui prima che magari mi vengano a fare le pulci nei commenti questo non è un k9 pl questo è un k9 a2 tuttavia è probabile che la versione definitiva sarà probabilmente simile alla versione pl sostanzialmente cionno i cionno i coreani ovviamente hanno sempre questi nomi simpatici che cos'è il k239 non è altro che un imars sudcoreano inizialmente i polacchi avevano fatto la richiesta agli americani per l'acquisto di circa 500 imars una cifra esorbitante che addirittura superava il numero di imars in servizio con gli stati uniti per per darvi un'idea semplicemente cos'è successo l'okhead martin inizialmente ha accettato tuttavia vista la situazione in ucraina e visti gli ordini sempre maggiori che diversi paesi in giro per il mondo stanno facendo della piattaforma imars tra cui l'italia ovviamente i tempi di consegna si erano andati a dilatare non poco di conseguenza per il principio elencato prima della celerità i polacchi semplicemente hanno detto va bene sapete che c'è coreani sappiamo che voi avete una versione un qualcosa di simile al al imars non è che magari ce lo vendete sì sì nessun problema e e tra l'altro il vantaggio del del cionno oltre ad offrire performance similare all'imars non è esattamente identico chiaramente è molto più veloce nella consegna proprio perché non ci sono tutti questi ordini della piattaforma se non del del roca stesso i primi ma scusa mauro che ti interrompo a livello logistico e anche a livello industriale di di ricaduta economica la polonia qui quale vantaggio avrà cioè non si va a creare una sorta di catena logistica troppo lunga se si va a collocare un sistema d'arma preso direttamente dalla corea del sud oppure si va a prendere semplicemente i diritti per la costruzione direttamente in polonia si ciò che prevede l'accordo non è semplicemente appunto l'acquisto ovviamente non di tutto quello che vi sto facendo vedere ma ad esempio del k2 del k9 sarà prevista proprio un vero e proprio trasferimento tecnologico sappiamo già che una delegazione coreana si è già recata in polonia per appunto pianificare quello che è il trasferimento di veri e propri impianti quindi la produzione del k2 avverrà esattamente sul modello di quella sud coreana quindi di conseguenza avremmo due linee di produzione una in sud corea e una in polonia ovviamente questo è un duplice vantaggio per i polacchi ovviamente è presto detto nel senso producendo localmente il k2 innanzitutto lo paghi meno e secondo ovviamente tutto quello che riguarda il ritorno economico gente che lavora gente che ha uno stipendio gente che spenderà soldi e metterà denaro appunto nell'economia e via discorrendo il secondo vantaggio è per i sud coreani installando un impianto di produzione del k2 in polonia rende il carro molto più appetibile a tutte quelle nazioni che magari in passato avevano espresso un certo interesse per il carro ma a causa della distanza geografica tra il paese interessato e la corea del sud avevano declinato un esempio è l'egitto anche la romania sappiamo che a maggio verranno i primi test su proprio in romania del k2 quindi questo questi impianti produttivi sono anche una bella pubblicità per la tecnologia sud coreana e anche i cionno perché nel momento in cui le consiglie degli aimars risultano estremamente lente avere a disposizione un'alternativa che fa grosso modo le stesse cose in tempi più rapidi risulta decisamente appetibile e questo in questo la sud corea sta cercando sostanzialmente di inserirsi per quanto riguarda al k9 in realtà è già da parecchio che il k9 si è dimostrato un successo economico proprio per il motivo che dicevo prima la corea del sud a differenza di tanti altri paesi è disposta a concedere la tecnologia ad esempio il k9 è costruito in loco in india è costruito in loco anche in turchia lo chiamano il fir team ma il k9 il k2 anche non è una novità l'altai turco altro non è che un carro sviluppato dal trasferimento tecnologico fatto da rotem che si è occupato appunto dello sviluppo dello stesso k2 quindi questo puntare questo concedere la produzione su licenza così facilmente facilmente tra molte virgolette perché in realtà non è neanche così semplice ovviamente per i polacchi è stato facile nel momento in cui si parlava di quasi mille carri chi è che si sarebbe fatto sfuggire un'occasione così ghiotta se magari la polonia si fosse offerta di acquistare meno carri magari non avremmo visto un accordo di questa scala bene e allora hai ancora scusami non ho visto se ancora delle slide perché io mentre se vedete che c'è un cellulare non sto giocando a candy crash ma mi sto organizzando con gli altri per per la live quindi se vado a beneficio del pubblico vai tranquillo vado spedito mi mancano giusto le ultime slide che riguarda più che altro la spedito scorso dove hanno preso questi soldi ovviamente ci sarà anche l'acquisizione dei 48 fa 50 sono aerei di addestramento slash light combat aircraft paragonabili agli mb 349 italiani per intenderci questi aerei dovrebbero andare a rimpiazzare il mig 29 simili ceduti all'ucraina ovviamente non sarà un rimpiazzo 1 a 1 neanche dal punto di vista qualitativo però comunque rappresentano una una bella boccata d'aria fresca per un'aeronautica che comunque si basava ancora su piattaforme abbastanza vecchie e poi abbiamo la questione abrams ora perché hanno deciso di comprare abrams k2 insieme c'è una ragione in realtà c'è una ragione di tipo operativa nel senso che agli occhi dei polacchi k2 e abrams avranno ruoli diversi e questo lo si capisce soprattutto da come verranno distribuiti all'interno delle unità gli abrams infatti saranno consegnati alla diciottesima divisione meccanizzata e verranno schierati sostanzialmente a metà strada tra il confine bielorusso e varsavia e se voi andate a vedere una cartina geografica noterete subito che quello un territorio praticamente aperto non esiste non esistono ostacoli geografici è pianura pianura e ancora pianura e ovviamente in un ambito un territorio come quello il peso innanzitutto del carro comincia ad essere meno problematico perché se in pianura non hai grosse difficoltà nel muovere il mezzo in secondo luogo essendoci anche pochi ripari per i mezzi in sé avere un carro con una buona corazzatura aiuta e in questo l'abrams è sostanzialmente il campione perfetto pesa quanto pesa una marea ed è ben protetto quindi perfetto mentre il k2 dove saranno schierati a nord al confine con kaliningrad perché proprio lì quello è un territorio se anche qui si può andare a vedere la cartina territorio con già una quantità maggiore di ostacoli naturali in particolare fiumi corsi d'acqua torrenti e il k2 in questo diciamo che si trova perfettamente a suo agio infatti i sudcoreani quando svilupparono il k2 tenero proprio in considerazione l'enorme quantità di corsi d'acqua che si trovano nella penisola coreana motivo per cui in addestramento è presse comune appunto fare guadi di fiumi con i k2 quindi l'idea di base è proprio quella due carri diversi per due ruoli operativi diversi e infine arriviamo anche all'altra domanda l'ampliamento anche del budget perché anche quello è un elemento importante sappiamo che infatti esattamente proprio lì sotto ora mi ero segnato anche il nome della città ma è un nome impronunciabile quindi non ti preoccupare te lo facciamo andare bene lo faremo andare bene tanto insomma penso che merga mergaovo nessuno se lo ricorderebbe ad esempio quindi andrà benissimo così per quanto riguarda le spese militari parliamo di un aumento di quasi il 46 per cento delle spese militari rispetto al tra 2022 e il 2023 questo anche ci spiega il perché abbiano investito si siano potuti permettere tutti questi programmi anche qui vediamo non solo che la polonia è un ide pochi è uno dei pochi paesi in della nato ad aver superato il famoso livello del 2 per cento quindi il 2 per cento spesa militare rispetto al proprio pil ma punta anche a raggiungere nei prossimi anni il 4 per cento che è diciamo un budget di tutto rispetto ovviamente questi soldi però da qualche parte dovranno essere presi e qual è il modo più facile per ottenere soldi debito pubblico infatti per quanto tutti questi progetti sembrano interessanti va anche sottolineato che da oggi al 2027 la polonia accumulerà un debito di circa 314 miliardi di zloti tradotto in dollari sono 71 miliardi di debito pubblico che sono una bella cifra ma non c'è solo questo soprattutto per quanto riguarda l'accordo coreano i polacchi hanno fatto ricorso a quello che è anche il prestito della banca coreana che ha concesso loro dei crediti per appunto l'acquisto di queste piattaforme quindi sì la polonia sta spendendo tanto la polonia si sta armando fine venti ma deve anche stare attenta perché se non riesce a gestire bene tutta questa tutta questa situazione rischia parecchio dal punto di vista economico e potenziale a corollario diciamo anche va detto una cosa adesso c'è stato il cambio al governo è arrivato tusk e a quanto pare comunque ci sarà anche un sblocco abbastanza importante di miliardi che aveva accumulato la polonia in a causa della contrapposizione delle politiche interne che andavano contro diciamo quelle europee di conseguenza c'è questo sblocco di miliardi in cambio di politiche interne più favorevoli allo stato di diritto usando una parola non propriamente giusta europeo diciamo una cosa quindi potrebbe attenuare dicevi scusa mauro no che proprio per concludere c'è anche da dire una cosa va anche detto che in polonia ad esempio il costo del lavoro è ma minore rispetto alla media comunque europea di conseguenza è più facile magari andare a risparmiare quella ovviamente non parliamo di una differenza eccessiva però sono quelle piccole cose che ti aiutano a risparmiare quella però appunto parliamo di 71 miliardi di dollari vedo che andrea ce lo chiede sono 71 miliardi di dollari e sono una bella cifra se si parla soprattutto di debito pubblico ripeto la polonia deve giocarsela bene anche nei prossimi anni perché si ha fatto molti accordi anche per sviluppi futuri ad esempio l'accordo per lo sviluppo del k3 che sarà sostituto del k2 via discorrendo ma se questi progetti non dovessero andare a buon fine e altri paesi decidessero di non procedere con l'acquisto dei k2 diciamo che quello della polonia si rivedrebbe un passo più lungo della gamba si bisognerà vedere anche se riusciranno a trasformare l'industria bellica non solamente in qualcosa di offensivo ma anche in qualcosa di economico no molto spesso ci si dimentica che comunque la difesa non è solamente un corto circuito a circuito chiuso ma effettivamente può dare anche possibilità di lavoro sempre sperando di non andare ad attivare i mezzi che si vanno a costruire e le tecnologie che si vanno a sviluppare salutiamo l'automo e l'ara bene allora vi devo salutare anche perché sono ahimè stanco morto una giornata di lavoro devastante quindi no grazie a te perché appunto ricordiamo sempre che quello che facciamo per il momento lo facciamo gratuitamente quindi ringrazio ancora una volta mondo militare ma tutte le persone che sono qui in questo spazio in questo canale non abbiamo ancora nessuno sponsor e non abbiamo ancora aperto nessuna società quindi gli unici sponsor siete voi lasciate un like condividete il video mondo ti lascio che domani mattina è la sveglia presto e passiamo adesso al prossimo argomento ciao grazie mondo militare ovviamente il canale youtube allora art prima di attivarti faremo una piccola pausa ma ma prima di farlo visto che comunque militari è una rubrica dove si parla delle ultime novità in campo militare beh penso che sia giusto andare anche a farti un po di pubblicità visto che tu sei il collaboratore del del canale lì short a livello di mezzi militari me li scrivi tu molto spesso e di conseguenza diamo di anche un po di pubblicità arturo giusti e anche uno scrittore oltre che un articolista quindi troverete a fine della live anche la possibilità di andare su amazon a comprare il suo libro le camionette della repubblica sociale italiana 1943 1945 se siete appassionati della seconda guerra mondiale sono in modalità marchetta le veline sono meglio di me però insomma si fa quello che sia le guerre si fanno con gli uomini che si hanno direbbe quale grazie e poi ovviamente visto che comunque ho avuto il piacere già di averlo anche ospite più di una volta sia il buon mirco che anche il generale capitine le parole della guerra un libro che ho appena le ho appena letto appena cominciato a leggere mi è appena arrivato fresco fresco di stampa e che vi consiglio per questo mese come lettura detto questo passiamo visto che parlavamo di carri della corea e parlavamo un po di corea correlato il discorso con la polonia passeremo a come si sta comportando il nostro amato leader ma prima ci prendiamo una piccola pausa vi invito nel mentre lasciare un lato ed eccoci qua con l'amato leader art raccontaci un po cosa sta combinando la nord corea sì diciamo che l'altro giorno eravamo sul nostro gruppo giustamente stava arrivando ormai il momento della di militarii questo mese e abbiamo pensato di trattare questo argomento cioè i test mistilisti test mistilistici nord coreani alla vigilia del 2024 e ho scelto un titolo un po' accattivante tra politica e intimidazioni perché quest'anno più degli altri anni in realtà sempre però quest'anno magari è più si nota di più ecco la corea del nord sta diciamo facendo un gioco forza sta lanciando un messaggio all'occidente e con i suoi test per questioni legate alla politica allora innanzitutto parlando di missili nord coreani direi che c'è una doverosa parentesi da aprire cioè come ben sappiamo il programma missilistico nord coreano in realtà è nato negli anni 80 e dall'epoca procede speditamente soltanto con l'ultimo dittatore con Kim Jong-un abbiamo avuto una crescita esponenziale dei test mistilistici ma semplicemente perché prima di lui quindi prima nel 2011 si aveva ovviamente innanzitutto una conoscenza minore e anche i missili erano di dimensioni minori quindi quando si testavano missili si testavano al massimo missili balistici a corto raggio e ovviamente appunto essendo a corto raggio non li notavamo tanto ora invece quando testano i loro missili a lungo e medio raggio devono andare da qualche parte questi missili visto che la penisola coreana e cioè la corea del nord è grande quanto l'italia del nord l'italia settentrionale capite bene che non possono testare all'interno di casa loro ecco e qual è il problema di questi test missilistici in realtà niente nessuno perché sono esattamente come quelli di prima il problema che fino al 2020 la corea del nord diciamo si è evoluta si è più che altro ha imparato a camminare con le sue gambe essenzialmente ora dal 2020 non ha solo imparato a camminare con le sue gambe sta imparando a correre e questo è un problema per l'occidente perché perché non mi si muovono le pagine ok perfetto ok appunto come dicevo appunto entro il 2020 si hanno avuti molti test molto molti falliti o comunque con risultati deludenti e invece adesso la corea è in grado a tutti gli effetti di dimostrarci la sua capacità missilistica nel 2020 è stato presentato wazong 17 wazong in nord coreano già in coreano vuol dire semplicemente palla di fuoco che non è il sole ma è la loro descrizione per marte quindi sarebbe marte 17 sono i numeri ovviamente il numero cronologico partiamo dal wazong 1 arriviamo al wazong 18 il wazong 17 è stato presentato nel 2020 appunto ed è stato diciamo il missile che ha dato inizio alle capacità missili cioè alla mutua quella che viene detta la mutua di istruzione assicurata della corea cioè grazie a questo missile la corea non è solo in grado di raggiungere tutto il territorio degli stati uniti e quasi tutto il territorio mondiale ma in grado anche di lanciare con un solo all'interno della sua testata questo razzo dispone di più missili di più testate e non solo ma anche di decoi quindi di esche di conseguenza con un solo razzo si possono colpire più obiettivi e allo stesso tempo mandare in crisi le capacità antimissile statunitensi o di qualsiasi altra nazione a cui si lanci questo simpatico missile dal 2020 come ho detto appunto stanno imparando non solo a camminare con le loro gambe ma addirittura a correre perché perché fino al 2020 avevamo questo tipo di missile che sono missili balistici intercontinentali dal 2020 in poi hanno iniziato a sviluppare invece quelli che sono i missili ipersonici adesso andremo andrò a spiegare anche la differenza per magari meno esperti appunto i più famosi sono sicuramente wazong 18 wazong 8 presentato l'anno scorso il wazong 18 presentato nel 2022 e quello che è stato presentato il 2 aprile che si chiama wazong 16 le fonti occidentali lo riportano come wazong 16 na na in angul sarebbe l'equivalente di b di conseguenza possiamo supporre che esista anche una versione a che però non ci hanno ancora presentato ecco che cosa vuol dire test bali già missili balistici ipersonici e cruis allora un missile balistico come ci suggerisce il nome ha una traiettoria balistica entra quindi oltre l'atmosfera terrestre per poi ricadere nel sull'obiettivo sul target ovviamente ha una velocità ipersonica veramente alle velocità sproporzionate che andrò a mostrarvi dopo il missile cruise invece il missile da crociera ha una traiettoria tesa dal punto di lancio al punto all'obiettivo invece i missili ipersonici hanno una traiettoria particolare praticamente arrivano a un otogeo massimo per poi discendere e avere una traiettoria possono cambiare traiettoria in pratica quindi non sono normali proiettili o cioè non sono appunto come normali missili cruise o missili balistici che hanno una traiettoria impostata e quindi facilmente monitora monitorabile e anche nel caso sì banalmente sono più intercettabili anche dai proiettili mi viene ad esempio prima parlavamo dell'auto melara mi viene in mente il cannone con munizioni che mi sfugge adesso il nome le munizioni sono scusami dart esatto che sono praticamente in grado di andare a essere sparate e a calibrare a capire dove andare a puntare tramite delle alette leggermente se tu hai dei dei vettori che però hanno la capacità dei missili che hanno la capacità però di cambiare ogni tot tempo la traiettoria diventa più difficile e quindi ti costringono anche a utilizzare dei sistemi di difesa più complessi e più anche difficili da costruire oltre più costosa esattamente infatti qua vediamo bene proprio come ce l'hanno presentato in questo schema i missili persone hanno proprio questa traiettoria ce la fanno vedere sia diciamo convenzionale ma anche appunto grazie a quelli che vengono chiamati glide vehicle può appunto cambiare proprio traiettoria proprio mettersi a fare quello che vuole lui essenzialmente detto in parole poco consone di conseguenza è difficilmente non solo difficilmente intercettabile da contromisure quindi missili anti missile ma anche da gli stessi sensori radar di della nazione che sta venendo attaccata perché appunto cambiando di cambiando traiettoria cambiando direzione può proprio andare ad impallare i sistemi di tracciamento in test sono iniziati a gennaio del 2024 con il test di un nuovo motore a combustibile solido anche questo un grandissimo passo avanti per la corea del nord prima si usavano combustibili liquidi che hanno due grandi svantaggi il primo che sono altamente volatili quindi altamente esplosivi pericolosi per chi li maneggia e anche immagazzinarli in secondo luogo un missile balistico o un qualsiasi tipo di missile a combustibile liquido appunto per la pericolosità del combustibile viene rifornito poco prima di essere lanciato ovviamente quando si tratta di un piccolo missile come magari penso agli scud sovietici come l'elbrus l'r 17 o altri tipi di missili comunque di piccole dimensioni il rifornimento può durare pochi minuti quando pensiamo un missile magari che può raggiungere gli stati uniti beh il rifornimento può durare anche delle ore di conseguenza ovviamente una nazione cioè i missili sfia scusate i satelliti sfia avversari possono tranquillamente notare questo questo movimento questo rifornimento e rispondere prima ancora che il missile venga lanciato i missili invece a combustibile solido non hanno questo inconveniente quindi possono essere portati sul luogo del lancio e in nel tempo utile di sollevare la la rampa di lancio essere lanciati di conseguenza hanno meno meno capacità di essere avvistati e appunto il primo test di un missile balistica e di un motore per missile balistico a raggio intermedio contestata i personiche a manovrabile è stato testato a gennaio del 2024 sempre a gennaio abbiamo avuto il test del primo missile a medio raggio appunto contestata i personiche a manovrabile di cui però non sappiamo ancora nulla in realtà di questo prototipo di questo esemplare infatti l'abbiamo soprannominato IRBM2 IRBM la sigla in inglese di missile balistico a medio a raggio intermedio ovviamente di nuovo a marzo abbiamo avuto un secondo test appunto per i motori per razzi a i personici a medio raggio tra l'altro notiamo una cosa molto divertente che a me piace molto della Corea del Nord e cioè che qua ci presentano appunto il sito di test del missile del motore scusatemi appunto blerato coperto per non farlo riconoscere il problema che a gennaio ce l'avevano mostrato senza questo tipo di copertura quindi good game amici norcoreani passiamo quindi ecco al test del 2 aprile del Wazong 16 che è stato un test di successo con questa testata appunto manovrabile che ha volato nel mare orientale o mare del Giappone a seconda di in quale paese vivete del sud est asiatico e secondo le fonti norcoreane il missile ha volato per mille chilometri in dieci minuti quindi facendo una veloce stima 6.000 chilometri l'ora con un massimo apogeo quindi lo vedremo dopo di 101 chilometri per raggiungere poi un'altitudine di 72 chilometri diciamo quell'altitudine che abbiamo visto prima in cui può manovrare come vuole lui teoricamente tenendosi a 72 chilometri di altitudine eccolo qua qua abbiamo perfettamente suo perché scusatemi me lo mostra così male ok e abbiamo uno schema che che ho fatto io molto male molto becero appunto ha raggiunto un massimo apogeo di un di 101 chilometri per poi scendere a 72 nella sua memoria evasiva secondo però le fonti sud coreane in realtà il missile ha violato per 600 chilometri invece che mille mentre secondo il ministero della difesa giapponese 650 il ministero della difesa giapponese però ci conferma l'appoggio di 101 chilometri quindi su questo non possiamo su questo siamo convinti siamo sicuri che la traiettoria è stata questa ecco la distanza calcolando comunque la velocità dalla fonte sud coreana si si parla comunque di 60 chilometri al minuto ossia comunque 3600 chilometri orari anche qui non pochi bannerò chiunque faccia delle battute su quel razzo perché ah sì il mio piccolo razzo scusatemi per l'altro complimenti perché hai fatto tutto quanto tu a mano quindi in realtà ho rubato ho rubato lo schemino del razzo da 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 un'altra da un'altra fonte ho poi messo le righe e non vogliamo sapere quale fonte procediamo le mie solite le mie solite fonti allora appunto la velocità come abbiamo detto è a seconda della fonte tra i tra i 6.000 ai 3600 chilometri orari detta così sembra una super una velocità folle assurda velocissima in realtà è molto poco se si considera che i missili balistici come dicevamo prima appunto con la loro traiettoria che supera l'atmosfera terrestre per poi ripiombare nell'atmosfera terrestre la velocità oltre le persone con il senso che secondo le stime potrebbero raggiungere velocità tra i 15 e i 24 mach equivalenti tra i 18.000 ai 20.000 chilometri orari velocità veramente da paura neanche da record di velocità e ovviamente queste velocità sono ovviamente non in molti casi non sono intercettabili da da contromisure missilistiche oggi esistenti come i Patriot statunitensi o i Tad sempre statunitensi i missili anche se si chiamano i personici appunto hanno velocità molto ridotte ma hanno la questa capacità fondamentale di poter cambiare traiettoria mentre appunto i missili balistici no seguono traiettoria per incostare questo in quanto questo sarebbe il il discorso dei test perché però appunto dicevo che sono test politici sono mandano dei messaggi politici beh perché il 10 aprile cioè oggi in realtà la live era prevista per l'otto aprile quindi non fate caso a tra due giorni ci sono ci sono ci sono tenute le elezioni anzi si stanno tenendo in questo momento le elezioni eh legislative in Corea del Sud eh il nuovo presidente sudcoreano John Son Suk-yong eh si è dimostrato in realtà una persona molto eh ostica molto eh negativa nei confronti della Corea del Nord eh contro invece a al vecchio presidente Moon Jae-in che era si era dimostrato molto aperto ai dialoghi intercoreani quindi eh i buoni i buoni sudcoreani hanno preferito intimorire i loro vc cioè i nordcoreani hanno preferito intimorire i loro vc diciamo anche a ragion veduta perché comunque la nordcorea non è che sia stata proprio lungimirante dal punto di vista di eh di una stesura dei rapporti se non sbaglio anche la distruzione ehm ricordami qual era l'infrastruttura la struttura simbolo della pace del tra lì allora i i nordcoreani hanno voluto mandare un grosso messaggio quest'anno che è stato in realtà largamente mal mal recepito e soprattutto non capito mal capito dalla dall'occidente cioè di colomba di Mars attack insomma sì 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 nel senso eh allora Kim Jong-un ha fatto un discorso al alla riunione plenipotenziaria del partito dei lavoratori di Corea nel per capodanno in cui ha ha detto ha fatto un'affermazione e cioè che lui che eh il suo governo eh la Corea del Nord e quindi anche lui eh stanno smettendo smetteranno di perseguire il il tentativo di riunificare la Corea eh di trovare diciamo un compromesso pacifico questa cosa è stata vista come ah oddio adesso c'è la guerra no semplicemente nel 2018 con la presidenza Trump negli Stati Uniti c'era stato un riavvicinamento eh della Corea con l'occidente della Corea del Nord con l'occidente e appunto il vecchio presidente Moon Jae-in aveva eh colto l'occasione la palla al balzo per avvicinarsi ancora di più di cioè diciamo ha usato Trump per avvicinarsi insomma si sono usati a vicenda Trump per avvicinarsi e Moon Jae-in per avvicinarsi insomma e ovviamente eh dopo la presidenza Trump quando è salito Biden Biden non ha dimostrato la stessa interesse a a specificare i rapporti sicuramente la guerra in Ucraina non ha aiutato eh perché ovviamente ha ha distolto l'opinione mondiale su altri problemi e e quindi Kim in pratica si è si è trovato quasi eh cioè da un momento in cui sembrava che veramente da un momento all'altro ci potesse essere una distensione se non totale parziale de eh della appunto della tensione che c'è in nella penisola coreana eh da un da un tratto tutto un tratto si è trovato in realtà senza l'interesse sudcoreano statunitense giapponese e mondiale a questa distensione dei rapporti e allora insomma ha detto ah sì bene e allora tenetevi pure la vostra occidente io me ne sto bene tranquillo qui siamo siamo settant'anni che ce la viviamo bene non saranno se aspettare altri cinque dieci anni non cambierà e appunto lui ha mandato questo messaggio l'occidente soprattutto poi le testate giornalistiche hanno fomentato hanno gonfiato questo questo messaggio di Kim dicendo prepariamoci alla guerra insomma no e appunto quindi di nuovo questo nuovo presidente appunto John Suk Yol ha appunto mandato questo messaggio in cui dice a me non me ne frega niente io non sono Moon Jae-in continuerò a perseguire la lotta dura eh il pugno di ferro con con te Corea del Nord e e Kim ha voluto insomma mandargli un regalo per le le lezioni legislative appunto con questo test il secondo sicuramente secondo più probabilmente più interessante motivo per cui hanno fatto questo test molto probabilmente è che il 26 marzo eh in un comunicato ufficiale Kim Jojong la sorella di Kim Jong-un ha mandato ha fatto sapere eh al mondo che il primo ministro giapponese Fumio Kishida eh aveva intenzione eh ha proposto un summit di eh di pace tra l'appunto Corea del Nord e il Giappone la la Corea in realtà risposta in un primo momento in realtà molto positivamente per poi subito eh quasi lo stesso c'è in realtà a distanza di 24 ore eh mettere diciamo i puntini su lei cioè ha messo delle importanti limitazioni a a questo summit perché sappiamo tutti che cosa vuole cioè il Giappone eh voleva sicuramente avere e fare delle richieste e i i nordcoreani hanno subito messo le mani avanti e gli hanno detto se vuoi dirci eh di smettere di testare i nostri missili no no non ci provare neanche lo secondo il loro loro punto di vista loro hanno il diritto di fare questi test e quindi dicono se verrete a dirci non fate questi test eh non venite neanche in pratica e un'altra cosa però fondamentale è che in realtà i giapponesi cioè mh l'azione di Kishida non è altro che un gioco politico in questo momento eh sta perdendo consensi in Giappone il suo lui e il suo governo di conseguenza eh qual è il problema più grave del Giappone in questo momento sono la Cina e la Corea del Nord ovviamente la Corea del Nord però è molto più pericolosa visto che la Cina in questo momento è molto più concentrata su Taiwan e sull'Ucraina e quindi eh ovviamente eh distendere le relazioni porterebbe sicuramente a una calma relativa in Corea del Nord in Giappone nel senso il giapponese medio si sentirebbe più tranquillo quindi ovviamente eh Kishida e il suo governo avrebbero sicuramente più possibilità alle prossime elezioni quindi sia chiaro che in realtà Kishida ha solo un proposito o comunque una buona parte delle in massima parte un proposito politico più che eh in realtà di vero interesse verso verso una pacificazione con la Cina o con la Corea del Nord scusate. Tu hai avuto modo scusami se mi permetta tu hai fatto di recente un viaggio in Oriente hai avuto modo di tastare con mano eh le sensazioni oppure non non hai avuto occasione? Sì 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 guarda eh sono rimasto eh a mia insaputa coinvolto in un'esercitazione militare giapponese sulla penisola di Inoto eh proprio penso proprio relativa a un un ipotetico sbarco sulle sulle spiagge giapponesi immagino da parte di un invasore coreano o cinese infatti eh ero in ero in macchina in autostrada mi hanno mi sono passati davanti una colonna di mezzi dell'esercito giapponese è stato molto ironico. O esercitazione o Godzilla. Sì 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 o esattamente per meno quello che ho pensato io poi eh questi soldati che correvano in mezzo alle spiagge sembravano tipo per una scampagnata sai quando tipo dimentichi qualcosa in macchina quando stai facendo il picnic e corri tutto all'impazzata verso la macchina per non fare tecco più o meno così con i mitra in mano molto divertenti non sembravano lì per addestrarsi sembravano un gruppo di ragazzini che va a giocare a paintball. Quindi fa riflettere molto questo. Sì 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 assolutamente. Pensiamo se dovesse succedere una cosa simile in Italia ecco o comunque provate a immaginare di essere lì e vedere una scena del genere. No infatti è stato veramente cioè farà ridere però non è una cosa che ci si aspetta cioè nel senso quando vai in un paese in vacanza non ti aspetti di assistere veramente così da vicino all'esercitazione militare anche perché in quella quella spiaggia volevo farci volevo passarci un paio d'ore e no mi hanno fatto capire di no. Appunto poi ultimo motivazione secondo me fondamentale che nessuno ci ha fatto caso è che il 30 marzo dopo una soffiata degli Stati Uniti che monitoravano questo mercantile la guerra costiera sudcoreana ha affermato e ha costretto ad attaccare nel porto di Busan o di Busan secondo la traduzione un mercantile il DG da 3000 tonnerlate che in realtà non batteva bandiera di nessun tipo e universalmente saputo che la Corea del Nord sfrutta una marina mercantile diciamo fa questo giochino di prestigio nel senso queste navi cambiano spesso nome cambiano spesso bandiera cambiano spesso porto di matricolazione insomma cambiano spesso armatore insomma per essere non legate cioè insomma per non essere tracciate in Corea del Nord questa nave non batteva nessuna bandiera è partita da un porto cinese e la sua destinazione era Vladivostok ed è stata comunque fermata dalle autorità sudcoreane e costretta al porto ora l'equipaggio di 13 persone che tra l'altro nessuno è coreano si parla di cinesi e indonesiani anche se non sono riuscito a capire quanti cinesi e quanti indonesiani né sono riuscito a capire chi è l'armatore di questa nave al momento e comunque è stata costretta in porto e con l'accusa di violare sanzioni della appunto della Repubblica Democratica Popolare di Corea quindi penso che l'abbiano beccata con qualcosa a bordo perché ricordiamoci che la Russia e la Corea del Nord in questo momento sta fornendo armi a munizioni perché armi alla alla Russia quindi forse potrebbero averla beccata con a bordo qualcosa ovviamente non non posso confermarlo né smentirlo e quindi insomma l'hanno fermata ovviamente al regime di Kim questa cosa non piace era già successo altri in altri casi che navi norcoreani mercantili dovessero avessero problemi perché erano state intercettate da dalla guardia costiera di alcune nazioni o in altre situazioni nello scappare durante la fuga di questa nave verso queste navi verso la Corea del Nord diciamo per rientrare in patria anche senza aver consegnato nulla la Corea aveva lanciato dei missili per distogliere l'attenzione quindi ecco che in questo caso potrebbe essere di nuovo un caso analogo la Corea del Nord lancia dei missili e lancia questo Wazong 16 na per appunto distogliere l'attenzione su questo mercantile sequestrato in altri è molto interessante il discorso che hanno i mercantili e i traghetti tutta la parte la componente civile che viene praticamente plasmata anche per andare a creare una sorta di naviglio supplementare di ausilio in caso di conflitto e non soltanto perché sì 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 vedevo tra l'altro qualche giorno fa in realtà sia i cinesi che gli iraniani a mia sorpresa in realtà stanno usando mercantili vecchi mercantili che adesso non usano più praticamente come piattaforme fisse in mezzo al mare dove testano i missili balistici o comunque altri sistemi d'arma non so onestamente non sono molto pratico prima prima c'era Leonardo Lanzara un approfitto per consigliarvi ha fatto una serie di live sul canale di Mirko di Parabellum dove potete andare a approfondire questo discorso c'era anche il buon Giulio di Italian Military Archives potete andare se vi interessa anche ad approfondire questo discorso perché la guerra navale in Asia è molto particolare anche come viene combattuto anche tramite l'utilizzo di navi pescherecce 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 non si può sentire scusate l'ora dei pescherecci che vengono praticamente utilizzati come piattaforme mobili e vanno a creare quasi delle isole galleggianti se vogliamo sì 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 GTRAM soprattutto usa vecchi vecchie navi da sbarco se non mi sbaglio risalenti alla seconda guerra mondiale quelli che usavano nel D-Day in particolare l'auto affondata in un sul fondale abbastanza basso vicino a un'isola che è contestata tra Cina e Vietnam e la usa essenzialmente come fortino in mezzo all'oceano quando le navi cinesi si avvicinano un po' troppo insomma la possono usare e comunque tra l'altro sono tornando al mio viaggio in Asia sono stato a visitare a Yokohama il museo della guerra costiera giapponese che è famoso perché contiene appunto i resti di un vecchio mercantile di un vecchio peschereccio non coreano che è stato affondato nel 2001 e questo era un peschereccio armato possedeva vari tipi di armamento nascosti in degli scompartimenti e infatti quando la la guerra costiera giapponese si avvicinò l'equipaggio tirò fuori dell'armamento inizio a sparare e infatti poi venne affondato comunque uscendo da questo un attimo dall'argomento marittimo questo in realtà non c'entra molto con la questione con la questione missilistica cioè con i testi missilistici di questo periodo ma nel comitato per le sanzioni del consiglio sicurezza delle Nazioni Unite sulla Corea del Nord ha annunciato in realtà da poco a metà marzo in Giappone ho fatto un posto di X molto alla veloce mentre mi trasferivo da un punto ad un altro appunto su questo interessante rapporto che hanno stilato per il 2023 in cui parlano di un 40 per cento dei fondi destinati allo sviluppo per le armi di distruzione di massa quindi arricchimento dell'uranio creazione di testate nucleari e del programma missilistico è stato appunto finanziato per il 40 per cento da valuta estera quindi valuta forte che i non coreani serve molto sequestrata con attacchi informatici o hacking insomma stiamo parlando veramente di un numero esponenziale mi pare che si si stimasse questa cifra intorno ai 750 milioni di dollari veramente non noccioline considerando che veramente tutti questi soldi li hanno praticamente avuti a zero non hanno dovuto fare niente se non fare degli attacchi informatici quindi veramente e ovviamente gli attacchi informatici non finanziano solo ed esclusivamente lo sviluppo di armi nucleari o comunque di armi di distruzione di massa nel senso nel 2019 mi pare fosse stimato che avessero rubato due miliardi di dollari quindi di questi miliardi che vanno a rubare grazie ai attacchi informatici alcuni vengono destinati appunto allo sviluppo di armi di istruzione di massa altri per altre cose tra cui anche spero e credo sanità pubblica istruzione e altre cose non necessariamente armi guerra distruzione robe brutte droghe altre cose a proposito visto che ce lo chiedo non potete andare a recuperare il video che abbiamo fatto io e art dove appunto parliamo della situazione in in nord corea così andate ad approfondire abbiamo speso più di un'ora a parlarvi di quel della situazione attuale anche se dei piccoli dei piccoli orsi dicono che in fin dei conti ci sono democrazie che sono peggio della situazione in nord corea ma va bene va bene così finisco l'ultima slide dicendo che sempre questo rapporto delle nazioni unite riporta come la corea del nord nell'ultimo anno ritorniamo sempre al 2023 sia sia si sia rese realtà indipendente nella produzione di telai nella nella nell'utilizzo di leghe speciali e nella saldatura gas inerte al tungsteno per la produzione di missili di qualsiasi tipo ovviamente missili balistici missili d'artiglia razzi d'artiglieria come i 122 milimetri dei grad o i 140 e 240 e 240 milimetri in realtà erano già autonomi questo vuol dire che comunque la la produzione nazionale è pressoché autonoma se non per probabilmente parti come parti diciamo hardware di 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 un certo tipo come ad esempio giro stabilizzatori controllo controllo di bordo insomma sistemi troppo tecnologici probabilmente sono ancora dipendenti da paesi come cina e russia ovviamente non è confermato potrebbero essere già autonomi mentre comunque è confermato che la produzione diciamo del del guscio di quello che riguarda motori serbatoi e testate la corea del nord è totalmente indipendente quindi possiamo già con ovviamente con dovere di inventare ma possiamo tranquillamente affermare che tra l'ottanta e il 90 per cento della produzione di un missile sia fatta autonomamente nella corea del nord e che solo in realtà una parte minima sia ancora forse dipendente appunto da esportazioni essere questo ce la dice lunga ce lo dice lunga su tante cose tra cui ovviamente quando ci parlano di dell'incapacità norcoreana della loro arretratezza tutto il resto sono arretrati ma comunque ormai sono in rifare molte cose non so io ho terminato non so se ci sono magari delle domande leggevo in chat grosso modo a parte la domanda giusta che ha fatto il poison diciamo che ci siamo quindi direi di concludere con l'ultimo argomento daremo la la parola ad alex prendiamo ancora un attimo fiato così anche vado a prendere i file invito come in ogni pausa lasciare un like questo aiuta il canale visto che abbiamo avuto anche un piccolo problema a inizio della live abbiamo perso alcuni preziosi like che hanno già stati messi sulla fiducia ci vediamo tra 20 secondi eccoci qua dunque partiamo da queste immagini questi questi confetti che partono siamo in nell'ambito della guerra in ucraina alex ti cedo la parola eh sì parliamo di bombe ecco quello che magari tanto tempo fa erano cosiddette armi semplici tra parentesi quindi semplici bombe da sganciare da bombardieri aerei tutto quello che volete al giorno d'oggi ritornano ritornano ancora molto molto importanti in questo conflitto ucraino erano importanti dall'inizio però per un periodo si sono andati a perdere in che senso quando è iniziato tutto questo conflitto i russi utilizzavano attivamente le bombe ma in maniera classica come diciamo come dico io old school carichi la bomba parti con l'aereo e gli sganci ehm nello stesso modo come le sganciavano nel 45 nel senso che il tuo su 25 ne ha caricati 4 e quando è sopra al bersaglio le sgancia e li fa partire con la propria cinetica verso il bersaglio e all'inizio della guerra questo lo facevano anche con i su 25 con i su 34 ci sono molte testimonianze di piloti russi che volavano con i su 34 ad altezza 50 metri cioè come se fossero un normalissimo portatore di bombe ma su 34 proprio non è quel tipo di aereo non è un su 25 è qualcosa di più complesso però in ogni caso utilizzavano queste bombe classiche come vedete le caricavano e volavano attivamente nei primi giorni poi quando tutto è andato non secondo i piani l'anderea ucraina era fin troppo attiva non è stata diciamo abbastanza distrutta come si prevedeva l'aviazione russa è scomparsa è scomparsa non del tutto naturalmente perché su 25 su 24 volavano attivamente però sempre in una profondità molto tattica molto stretta quindi non parliamo più di profondità strategiche dove eri volano tranne che questa cosa è fuori dalla dottrina russa però in ogni caso non riuscivano a volare neanche per farvi capire di 20 chilometri all'interno del fronte era proprio al limite limite della linea del fronte 5 10 chilometri massimo all'improvviso però c'è iniziano a comprare a comprare queste bombe planari l'aspetto delle bombe planari in realtà non è nuovo gli americani usavano le bombe j-dum già negli anni 90 secondo la dedu gli americani chiamano j-dum cos'è una bomba j-dum è una bomba classica vecchia e anni 60 anni 50 è una bomba a cui viene indossato un involucro speciale che la rende più aerodinamica all'interno ci mettono naturalmente della parte elettronica collegata al gps la parte satellitare e in questo modo una vecchia bomba convenzionale viene trasformato in un'arma di precisione e avendo questo sistema planare riesce a volare per decine di chilometri quindi viene sganciata da certe altitudini in certe velocità e lei ha una forza cinetica abbastanza per volare decine di chilometri ed essere molto preciso e questa è tecnologia di anni 90 i russi non lo hanno esatto esatto e questa è la versione indicamente immaginare la parte verde della bomba ok più ovviamente anche la parte posteriore con addosso questa sorta di abito diciamo tecnologico che li consente di andare a planare soprattutto di essere condotta anche tramite le le alette che li consentono la direzione la direzionalità al e anche ovviamente un gps è il discorso che facevamo prima in estrema sintesi chiaramente si impostano le coordinate e fa il massimo per portare questa bomba il più preciso possibile sulle coordinate indicati e ai russi questo non interessava non le hanno mai utilizzate mai utilizzate le gioità le hanno sviluppate le hanno sviluppate c'erano già sviluppi però non le hanno mai 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 utilizzate loro avevano un altro sistema molto preciso bisogna dire la verità loro che ma uno che si chiama di fest è un sistema di tutto un sistema di combattimento particolare installato all'interno dell'aereo che permette al pilota di calcolare tutti i dati di cui ha bisogno e sganciare questa bomba nella maniera più precisa possibile bisogna riconoscere che l'hanno utilizzato moltissimo questo di fest in siria e le bombe cadevano molto precise loro chiamavano farti arrivare la bomba nella finestra di casa ed è un sistema molto preciso ma rimane comunque il problema la bomba va portata praticamente sotto al tuo bersaglio e quando parliamo di siria quando non c'è una guerra di antiaerea non c'è problema di fest andava più che bene in ucraina questo non andava bene bisogna dare maggiore libertà all'aereo farlo rimanere fuori dalle dalla gittata del contraereo ucraina e qui si ricordano delle j-dam delle bombe planari e iniziano a introdurre iniziano a provare inizieranno loro con le bombe da 250 kg hanno avuto successo parliamo dell'inizio già quasi la metà quasi la metà del 2023 quindi neanche tanto tempo e tempo fa la metà del 2023 e se voi guardate bene le bombe russe non è quel livello tecnologico come hanno fatto gli americani con tutti gli pacchetti super sviluppati su misura no è semplicemente un molto alimentare acciaio saldato stretto con fascette attorno alla bomba all'interno c'è un sistema di guida basta cioè è veramente acciaio saldato stretto con fascette in acciaio sopra la bomba 34 dell'era moderna praticamente sono brutte però sono funzionali ma hanno raggiunto con le bombe da 500 kg un livello di precisione metrico cioè proprio incredibile anche se sono strette con fascette e sono saldate queste j-dam questi sistemi planari precisione e metrica proprio 5 10 metri e per una bomba da 5 500 kg cambia ben poco perché le bombe sono importanti sono un'arma importante fa veramente così tanto discutere nella guerra ucraina bisogna capire che comunque una bomba da 500 kg all'interno a 200 kg di esplosivo ok io ci ho guardato mi sono documentato le fab 500 hanno all'interno 200 kg di esplosivo quindi un solo colpo preciso ti permette di neutralizzare un bersaglio abbastanza importante soprattutto parliamo di trincee quindi e cadono le trincee sono abbastanza sono precise per fare anche quelle e ti va a neutralizzare una linea di trincee ed è costa di meno e soprattutto ci vuole meno tempo piuttosto che una preparazione di artilleria quindi tu devi rischiare la tua artilleria devi portarla nelle vicinanze deve portare le munizioni coinvolgere la logistica tutto questo ci vuole tempo rischio e non è così efficace mentre prende un aereo ci sbatti sopra quattro bombe da 500 kg e lui lo sgancia volano queste queste che vi ho tirato fuori sono tre bombe sono tre fab da 500 ovviamente la proporzione non so se si riesce a vedere però possiamo dire che sono molto precise perché sono tutte e tre sulla linea di alberi dove bisognava no veramente sono tantissimi video potete andare a trovarle hanno raggiunto un livello di precisione incredibile e con queste bombe all'inizio ne usavano una per su 34 poi due adesso ne sganciano quattro per aereo subito ed è un ottimo risultato ottimo risultato visto che è un paese che non li ha mai utilizzate prima queste queste tecnologie questi jdm qui tra l'altro livello di produzione qui tra l'altro aspetta solo un attimo alex perché penso si veda bene lo sgancio è il fatto che si aprono in questo momento vedete eccole e volano per 70 chilometri 60 70 chilometri al massimo questa poi vedremo dopo questo sì che si può anche fare molto di più detto così scusami se se intervengo detto così sembra poco ma 70 chilometri digitata sono 70 chilometri che l'aereo non si deve fare non rischia di entrare nel raggio di sistemi antiaerei per farvi capire con di fest con di fest ottima precisione la distanza di sgancio era 6 chilometri 6 e da 6 chilometri siamo arrivati a 60 70 e dice veramente tantissima differenza e l'aereo veramente non entra nel campo delle antiaeree e se casomai entra nel campo delle antiaeree entra solo quelle contrarie molto complesse molto costose che l'ucraina ne ha il minimo minimo assoluto quindi parliamo di tutte quelle iristi patriot proprio e bisogna capire che questi sistemi costano sono pochi e non comprano fronti così enormi e soprattutto devo devo raccontarvi questa è importante capire che questi sistemi contraeri ucraini non è che stanno tutti sul fronte quindi il governo li deve decidere dove posizionare otto le posizioni a kiev ho letto le posizioni al fronte o magari le posizioni a kharikov poi difendi una centrale nucleare quindi spesso succede che succedeva specialmente nel periodo del avdevca per farvi capire quando volavano veramente aerei ogni minuto in un ora in un giorno in un giorno in un ora potevano caderti addosso 300 bombe da diverso calibro in un giorno 300 bombe ecco quello è stato il periodo quando i petri otterno a kiev poi le hanno spostate a davdevca hanno abbattuto un paio di aerei cosa c'è stato poco dopo mosca ha iniziato a lanciare i missili contro kiev e quindi il governo ucraino è sempre costretto a far viaggiare queste contraerie o al fronte o a kiev e mosca gestisce questa cosa colpendo di qua di là o faccio un'offensiva o colpisco kiev e questo funziona e questo funziona per le antiaeree perché non ce ne sono così tante e tutto questo appoggiato naturalmente da un livello produttivo abbastanza importante perché russi oltre averne già in riserva però con questi ritmi attualmente ucraini già da tempo dichiarano che di queste bombe possono cadere su tutto il fronte 300 400 bombe al giorno senza problemi ai tempi della caduta di avdevca erano 300 solo da di qui mediamente sul fronte sono 300 ed è tanto lo stesso tanto perché queste bombe ti permettono di ammorbidire letteralmente le trincee radere al suoro interi centri abitati distruggere ponti con un solo colpo come nel video quindi fare grandi danni molto velocemente e soprattutto kiev non riesce a rispondere perché non puoi abbattere queste bombe devi lottare contro l'aviazione e adesso l'ucraina non ha con cosa tanto combattere queste minacce e siamo arrivate le bombe da 500 se le fai vedere anche nelle slide perché mi piacerebbe che le persone non vedessero che ci sono anche le bombe adesso stanno arrivando già arrivate le 1500 le 1500 non sono arrivate ieri vengono già utilizzate da oltre un mese già molto attivamente sono stati presentati da tempo anche queste arrivano agitate da 60 70 chilometri ed è una bomba da 1500 kg con all'interno anche qui mi sono documentato 679 kg di esplosivo 679 kg ed è veramente molto 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 tosta soprattutto quando voi immaginate questo periodo specialmente quando chi cerca di chiudersi in difesa quando vedete quei video di chi che prova di costruire linee di trincee punti di difesa statici con cemento così via puoi vederlo puoi distruggerlo e questo è il problema se tu puoi vedere un'infrastruttura se tu puoi vedere un bunker e hai questo genere di armamenti diventa un problema anche stare in difesa a questo punto anzi paradossalmente potrebbe essere ancora peggio perché avendo un punto statico il e avendo a disposizione da parte della russia questo tipo di armamenti il povero soldato che si ritrova all'interno del bunker si ritrova in testa quattro di queste ora non so e mille e cinque immagino che in realtà sia trasportabile un numero minore dal velivolo uno alla volta se uno o due massimo il suo 34 però potete immaginare se soldati che ricordiamo sempre purtroppo militari parla di questo parla di guerra ma ricordiamoci sempre che russi e ucraini sono comunque ragazzi che sono lì a morire scusa stavi dicendo volevo solo dire io sono completamente d'accordo con il nostro argomento ed è perfettamente vero c'è però da dire una cosa cioè le fortificazioni esistono dall'alba dei tempi gli aerei esistono in alta acqua con più di cento anni pure però adesso faccio un esempio stupido il vallo atlantico alla fine sapevano dove erano i bunker nonostante i bombardamenti americani con b17 tutto quello che avevano comunque di dei c'è stato ed è stato un massacro quindi è vero che le fortificazioni diventano sempre più obsolete con armi del genere però comunque non verranno mai rase completamente al suo problema sia proprio un discorso di precisione cioè se tu pensi adesso la porto all'estremo però se tu pensi ad esempio i bombardieri i bombardieri strategici portando sempre visto che stavamo parlando di seconda guerra mondiale non hanno mai avuto un grande successo contro ad esempio le navi perché perché tu nel momento in cui avevi un bombardiere strategico lanciavi il tuo pacchetto di bombe la nave non faceva altro che virare soprattutto perché parliamo di alte quote discorso diverso è stato ad esempio per la roma la roma è stata colpita in piena da un unico ordigno dalla bomba fritz perché perché aveva la capacità di essere guidata una dei primi esempi di missili possiamo considerare una sorta di missile e aveva la capacità di precisione quindi tu capisci che se il vallo atlantico avrebbe avuto in contrapposizione la possibilità da parte degli alleati ad esempio di andare ad avere degli attacchi mirati beh capisci che in questo caso il discorso cambia sì questo questo assolutamente c'era un però non volevo sicuramente dire che hai sicuramente ragione sul fatto che se dovessimo andare però il discorso è che qui il discorso cambia proprio perché oltre la potenza viene anche unito il discorso della precisione e quindi da questo punto di vista poi sicuramente se dovessi scegliere se stare dentro una fortificazione se stare come in molti casi dentro una trincea beh penso che la scelta sia ovvia però mi fa sempre pensare che questa cosa qua comunque le guerre di oggi ad esempio voi sapete benissimo quando leggete i ricordi dei soldati sovietici di 41 perdere 500 persone al giorno solo su una determinata di direzione quindi si parlava di un battaglione al giorno buttato lì poi il giorno dopo si riparte era fattibile al giorno d'oggi anche guardando bene bene le trincee in giro però non vediamo quella densità di persone quindi spesso per non dico un battaglione al giorno perché appena di mente un battaglione al giorno adesso si perde su tutta la lunghezza del fronte nei casi più estremi delle giornate più 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 spaventose diciamo arriva a mille ai tempi di bakmut arrivavano mille e cinque al giorno trabacco tutto fronte di perdite perdite dico come dicono i russi 200 e 300 tra caduto e ferito loro li chiamano così quindi questo tipo di bombe fa proprio questo nel senso che hanno una precisione dannata quindi se tu hai dieci bunker sono dieci bombe quindi non è il bombardiere che deve arrivare sganciarti addosso non so quante bombe per avere una probabilità del 20 20 25 per cento di prenderci almeno un paio qui parliamo di una bomba che ti arriva precisa lì dove deve arrivare e se non fai qualcosa contro l'aereo con la bomba non la fermi e questo è il problema e poi è tutto lavoro dell'artilleria e iniziano 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 a sala però un grosso problema ecco perché appunto il vantaggio che aveva l'ucraina dal punto di vista difensivo va a sciamare purtroppo proprio per questo genere e quindi anche le possibilità di giungere a un a un accordo più o meno vantaggioso nel tavolo delle trattative va a sciamare inevitabilmente perché se uniamo il fattore della dell'ormai sempre più scarsa capacità di uomini di uomini arruolabili di fatto da mandare al fronte al fatto che anche giocando in difesa scusate questo termine non non proprio perché non stiamo parlando di un gioco chiaramente beh le cose diventano veramente drammatiche e prima parlavamo a inizio del discorso degli f16 fino al 2025 non so se gli ucraini possono permettersi di stare a questo ratio di perdite sia dal punto di vista l'altro tu segui la la questione mi confermi che comunque anche dal punto di vista eh strategico ogni giorno c'è un avanzamento anche costante lento e costante da parte di russi oppure in questo momento c'è uno stand by no adesso è il fatto che adesso loro avanzano e potete andare a guardare anche sul mio telegram che io seguo ogni giorno tutti gli avanzamenti non parliamo soltanto di un ritmo stabile ma su certe direzioni sono ritmi che crescono e io io il stile russo lo chiamo piccoli passi grandi risultati in senso che loro manovrano sembra che manovrano piano ma lo fanno nel senso che comunque fanno questi progressi da 300 400 500 metri al giorno però manovrano in un tale modo che passano passa una settimana e poi questi progressi piccoli diventano una ritirata ucraina di 24 chilometri quadri poi di nuovo questi di nuovo queste piccole manovre e l'Ucraina è costretta a ritirarsi ogni settimana si ritirano da un grande pezzo o da un centro abitato o da mezzo centro abitato poi di nuovo ricominciano questi avanzamenti e tutto questo è sostenuto da bombe artilleria aviazione poi ci sono anche elicotteri che pochi se ne pochi parlano ma lavorano attivamente anche quelli e magari non avete sentito la la munizione preferita di elicotristi russi è l'EMUR parliamo di un missile congitata 25 chilometri e 25 chilometri 15 chilometri 25 chilometri è già tardi scusate siamo in live anzi no adesso vediamo perché oggettivamente siamo in live da due ore dieci vedo che comunque ci sono ancora decine e decine di persone che ci stanno guardando mi fa piacere o ascoltando come qualcuno ha già detto 25 chili di esplosivo e 15 chilometri digitata per elicotteri 52 e mi 28 è così quindi adesso è un periodo d'accio e sono sicuro che a maggio io l'ho sempre detto maggio inizio estate assisteremo qualcosa assisteremo qualcosa io non ne ho sempre detto perché quest'anno ucraina non avrà a parere mio iniziativa ma manco manco un mese perché per organizzare l'offensiva per organizzare la siva di uno scorso a speriamo che buttarsi in un'altra offensiva non ha assolutamente un senso cioè già la prima io onestamente e tra l'altro quello era il momento di trattare è abbastanza parese l'hanno organizzato con te mesi la scorsa offensiva sette mesi per organizzarlo quindi siamo già ad aprile basta finiano prossimo anno questo prossimo vedremo saremo qui a raccontarvelo bene alex io ti ringrazio ringrazio arturo giusti e collaboratore del canale anche e il bond e ci ha raccontato nella prima parte il discorso degli f16 insieme a leonardo lanzara e anche la buona militare ovviamente troverete tutti quanti i link per collegarvi al loro lavoro sia sul campo social che anche quello cartaceo come detto anche dal punto di vista dei libri scritti ad esempio dal buon art io vi invito è importantissimo lo ricordo sempre questo lasciare un like condividere il il video e soprattutto fateci sapere anche la vostra in maniera civile anche se non pensate non la pensate come noi qui sotto con un vostro commento inoltre cosa molto utile per le prossime live vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella detto questo ora che ho fatto lo youtuber vero quello che vi dice cosa fare esattamente io vi auguro una buona notte per chi sta guardando adesso in diretta e invece un buongiorno se ci state guardando in differita ciao a tutti lascio l'ultima parola agli ospiti ciao alex ciao art e ciao daily ciao a tutti buona serata grazie mille ciao a presto su gensitalia